Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e in FIPILI. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A11 tra Chiesino Zanese e Lucca Est, in A12 tra l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio e Colle Salvetti, e Traccolle Salvetti e Rosignano Marittimo e in FIPILI lungo tutto il percorso. In A1 per consentire lavori di pavimentazione, la notte di lunedì 3 ottobre, in orario 22.06, si racchiusa lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, si ricorda che sono iniziati sul ponte Vespucci i lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra. Arriverà anche la pista ciclabile e i lavori dureranno 4 mesi. Ed è tutto, buon viaggio!